Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Siamo nel nostro salotto bolognese. Oggi parleremo di un romanzo che è una storia vera, che è un grande messaggio di coraggio e di forza. Parliamo quindi di malattia, di speranza, di salute e è un libro che attraverso le sue parole riesce a curare chi lo legge. Non a caso ha vinto il premio Zanibelli, che è questo importante riconoscimento letterario e sanitario atto a sostenere la letteratura, la narrazione di salute, di malattia, di speranza. Qui con noi oggi abbiamo l'autrice di Salgo a fare due chiacchiere, Cristina Petit, e la protagonista dello stesso romanzo, Irene Venturi. Buongiorno, grazie per essere qui. Partiamo subito dalla storia. Lo chiedo a lei, professoressa, di raccontarci un po' la trama velocemente. La storia nasce da un fatto realmente accaduto, che è la vicenda del papà di Irene, che ha avuto un incidente e si trova in stato di semicoscienza. Si intreccia questa storia vera, in cui nel libro abbiamo proprio tenuto anche i nomi veri, insomma, dei protagonisti, si intrecciano. Un'altra storia che è vera, cioè che ci sono un gruppo di volontari, ragazzi volontari di Bologna che va a fare volontariato per le corsie dell'ospedale. Grazie a Irene che ha portato avanti questo progetto, ha avuto l'idea di questo progetto. Nel libro io ho romanzato la parte dei ragazzi, nel senso che i ragazzi ci sono realmente, però io ho inventato dei personaggi e si intreccia una storia romanzata alla storia vera di Luciano e di Irene, della sua mamma. Quindi Irene è stato suo padre che ha avuto questo incidente nel 2013. Ci può raccontare un attimo? Sì, ormai sono passati poco più di tre anni. Papà ha avuto un incidente con la moto, è stato investito da un pirata della strada, purtroppo, e da allora, dopo pochi mesi, insomma, è rimasto in stato vegetativo, in questo stato di minima coscienza. Non è assolutamente autonomo, quindi c'è stato un piccolo miglioramento col tempo, nel senso che ha aperto gli occhi, ha iniziato a muovere le dita della mano destra e adesso, diciamo, abbiamo creato questo sistema di comunicazione, appunto, attraverso gli occhi, attraverso la mano, però al momento papà è ancora ricoverato di struttura, quindi dopo tre anni, insomma, abbiamo ancora, diciamo, questa storia che è diventata parte di noi, insomma. Dopo quanto vi è venuta l'idea di scrivere un libro su questa storia? L'idea è nata un po', diciamo, quasi per caso, perché, appunto, io avevo proposto questo progetto a questi ragazzi di venire a fare una sorta di volontariato, di servizio. Ragazzi che sono? Chi sono? Sono adolescenti, sono dei ragazzi di un gruppo scout, dai 16 ai 20 anni, quindi la fascia di età più o meno è quella. È stata un po' una sfida, dicevo, un progetto partito un po' per caso, perché? Per dare neanche tanto sollievo ai pazienti, quanto alle famiglie dei pazienti, quindi subito ci siamo interrogati quale potesse essere l'obiettivo, il messaggio di questo servizio e la struttura è stata molto disponibile, questo ci tengo a sottolinearlo, perché la struttura e il suo responsabile, che è il dottor Bertoletti, hanno permesso insomma di far entrare questa ventata di aria fresca e di gioventù all'interno della struttura e quindi grazie anche alla collaborazione con l'ospedale, che è l'ospedale Santa Viola di Bologna, abbiamo fatto partire questo progetto. All'inizio si chiedeva ai ragazzi di lasciare le loro considerazioni, i loro pensieri all'interno di un diario e in questo diario loro scrivevano un po' proprio quello che pensavano, stando lì un'ora, due ore, che cosa provavano dalle cose... Quindi prima di tutto è nato il progetto, l'idea di dire prendiamo, chiediamo a questo gruppo di ragazzi di venire a fare volontariato all'interno della struttura, di raccogliere le loro idee, le loro considerazioni, le loro riflessioni e poi successivamente da lì è spuntata l'idea del romanzo e voi vi conoscevate già, quindi c'è stato questo scambio di questo passaggio di testimone e lei, Cristina, ha pensato di buttare su carta quello che stava accadendo. Il tutto quando due anni fa, l'anno scorso, quando è stato? Il libro è uscito a novembre 2015. Sì, un annetto fa. Sì, tutto un annetto fa. Un annetto fa. Naturalmente già da questa piccola presentazione che abbiamo fatto si capisce che ci sono tanti punti di vista nella narrazione. Come è scritto? In prima persona, in terza persona? No, ogni pagina ha praticamente un protagonista che parla, quindi ci sono varie voci narranti, c'è la voce di Irene, c'è la voce del dottore, ci sono le chat dei ragazzi e ci sono le voci dei ragazzi, quindi la pagina di Anne e di Greg. Ecco sì, queste. Dottore, sì. Quindi è un intreccio di punti di vista. È un intreccio di punti di vista di voci soprattutto, di voci, di pensieri, di riflessioni. Ciascuno butta, è come se buttasse su carta quello che pensa, vive, sente in questa vicenda. Che tono prevale nel libro? Che tono prevale nel libro? È un libro che inizialmente era pensato per un pubblico di adolescenti, proprio per sottolineare il fatto che queste realtà è bene che vengano conosciute anche da un pubblico più giovane. Poi in realtà, secondo me, tra le righe ci sono dei messaggi abbastanza forti e quindi è molto adatto anche a un pubblico di adulti. è pensato anche per le famiglie che vivono queste vicende, perché la storia di papà è una storia abbastanza tradizionale. Diciamo che può succedere a tutti in qualsiasi momento della vita. Si può essere figli, si può essere moglie, marito, sorella, fratello, cioè i casi familiari sono diversi. E quindi voleva essere un po' uno spunto e un messaggio anche per le famiglie che vivono queste vicende, insomma, queste tristi, purtroppo. Io chiederei alla regia di mandare il book trailer o comunque una parte di esso per renderci conto un po' di cosa stiamo parlando più nel dettaglio. All'inizio anch'io mi ero eluso che potevamo sentire qualcosa. Ho sparato a palla la musica un signor un giorno, ma non ha mosso neanche un muscolo. E se non ti si muove la musica, mi sa che ormai è fatta. Sono morti questi, non fanno più niente, ragaz, stato vegetativo. E poi che cazzo vuol dire vegetativo? Presso la nostra struttura vengono trasferiti da altri ospedali pazienti con gravi disordini della coscienza che hanno terminato il loro percorso riabilitativo intensivo. Sono i pazienti più difficili, i cosiddetti long term, quelli che non hanno più chance di recupero funzionale e cognitivo, ma i cui familiari non vogliono perdere la speranza di risveglio. Per questo la gestione del paziente e soprattutto dei familiari è sempre molto complicata. Ancora una volta dovrò affrontare le loro ansie. Chissà se qualcuno pensa mai che questo è un momento difficile anche per me. Mi hanno detto le infermiere che è stato investito da un pirata della strada, che poi, indovina, è scappato via. Sto figlio di... Ma che mondo del cazzo ci lasciano? Ci ripetono che dobbiamo rispettare qua e là le culture, i diversi... E poi, e poi non ti fermi, neanche se ne stiri uno. Lo lasci lì come un cane? La verità è che tutti se ne fregano di tutti e non vale la pena sbattersi per niente e per nessuno al di fuori di te. Ma alla fine ognuno faccia la sua vita che è la cosa migliore. E questa è la mia massima di oggi. Passo e chiudo. Non posso dire quello che non è. Papà non è più lo stesso, per adesso. Facevo tutte quelle cose che vedi fare nei film. Gli parlavo, gli raccontavo le cose che succedevano, gli dicevo che lo stavamo aspettando per fare tutto quello che faceva lui e che facevamo insieme. La sua è una vita perché non è morto e questo è l'unica cosa che conta. La figlia di quello che è arrivato per ultimo, c'ha sempre un sorriso che porca vacca non so da dove lo prende. Gli canta le canzoni degli alpini quando gli fa la barba, ma l'avete mai sentita? Io sì, e mi è venuto da piangere. Greg, ma non avevi detto che smettevi? Voglio vedere come va quel Luciano prima, perché mi hanno detto che era uno che gli piacevano le moto, le aggiustava anche. Avete qualcosa in comune? Sì, dai, mollo appena capisco come si mette per lui. Qui? Comunque si chiama Irene. Chi? La figlia. Ci sono dei ragazzi che fanno volontariato qui e fra poco cominceranno anche da papà. Sono molto in gamba. Ce n'è uno rasta che mi fa una grande tenerezza. Si avvicina con delicatezza ai letti dei pazienti quando li deve salutare e gli dà un pugnetto sul mento. Poi si allontana trascinando le scarpe e si porta via un po' di aria pesante che circola in reparto. Mi sembra un tipo di quelli diretti che non ti risparmiano le cose che ti devono dire. A mio padre sarebbe piaciuto molto. Quando uno dei miei pazienti fa un grosso miglioramento, come aprire gli occhi, riesco ancora a commuovermi, ma devo mantenermi saldo, perché è a quel punto che la famiglia riprende coraggio e vorrebbe avere conferme e vorrebbe sentirmi dire cose che io purtroppo non posso dire. Aprire gli occhi vuol dire tantissimo e pochissimo. Papà con gli occhi aperti. E non è un film. È la nostra vita che sta cambiando prospettiva. Forse tutte quelle cose fatte finora, le canzoni, i racconti, gli odori, le persone che venivano a trovarlo, forse tutto questo è servito. Lui non si è sentito solo e quindi ha reagito. Senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Io gli ho urlato, Luciano, sono giorni che piove, senti come piove, lo senti? Ma ti ricordi poi com'è bella la pioggia? Allora mi ha stretto la mano. Allora lì ho pompato la musica a palla, quella che piace a me e alla fine anche dei rumori di motori per lui. Ciclomotori oggi, una playlist a due ruote tutta per lui. Luciano vai tranquillo, ora vado ma torno presto e salgo a fare due chiacchiere. Luciano, ciao! Allora salgo a fare due chiacchiere, tre minuti per... È molto emozionante questo filmato e si sono toccati punti molto interessanti. Partiamo dall'assistenza, da quello che lo chiedo naturalmente a Irene. Come si passa dalla depressione al volere andare avanti? Allora fortunatamente noi la fase della depressione non l'abbiamo vissuta e dico fortunatamente perché non è una reazione normale insomma reagire così. Ci sono molte famiglie che magari non ce la fanno, che sono sole e questo ci tengo a sottolinearlo. Noi ci siamo sentiti in qualche modo fortunati perché abbiamo, siamo una famiglia unita e abbiamo deciso di in qualche modo di andare avanti proprio grazie anche a quest'unione e all'amore per la vita. Io penso che mio padre è una persona che ama la vita e il fatto che sia ancora lì credo che lo dimostri e noi ci siamo attaccati a questo per andare avanti. Abbiamo, come si dice nel filmato, fatto un po' tutte quelle cose che si vedono fare appunto in televisione o che si leggono nei libri e non posso dire se hanno funzionato o no però noi sentiamo che appunto lui è ancora lì e quindi non ce la sentiamo di abbandonarlo o di lasciarci andare e questa forza ti dà la volontà per andare avanti e per affrontare i giorni perché si deve imparare una vita nuova. Io capisco perfettamente perché ho vissuto allo stesso modo delle situazioni familiari molto simili sia con mio padre prima che con mia madre dopo però in entrambi i casi per esempio con mio padre dopo un lungo periodo c'è stato all'inizio un miglioramento molto giusto aprire gli occhi stringere la mano ma poi questo miglioramento è diventato più progressivo nel suo caso parliamo già di tre anni quindi per quello ho detto depressione perché ci saranno dei momenti grande sconforto? Ci sono degli alti e bassi perché comunque la storia è una tragedia nel senso che se io potessi scegliere di tornare indietro naturalmente lo farai subito però al momento appunto lei diceva sono già passati tre anni io come ho detto anche in altri casi siamo indecisi se dire sono già passati tre anni sono solo passati tre anni proprio perché al momento ci sentiamo insomma ancora forti di questo notiamo che la nostra presenza fa bene a mio padre o perlomeno percepiamo attraverso gli sguardi il respiro le strette di mano insomma che lui sente che noi siamo presenti e poi ha detto una cosa molto giusta prima che di fronte a queste tragedie familiari ci sono due strade di solito o la famiglia proprio si sgretola completamente oppure si unisce in modo molto forte e fa battaglia a muro comune diciamo e andiamo all'autrice un premio aspettato inaspettato con se lo aspettava com'è stata questa questa esperienza quando abbiamo saputo che eravamo arrivati nella terzetta finale insomma no non ce l'aspettavamo dopo quando eravamo lì speravamo la sera della premiazione ci speravamo che è stata la quarta edizione 4 ottobre palazzo farnese una grande emozione una grande emozione è stato uno dei palazzi più belli di roma quindi solo entrare poter entrare lì dentro già era da batticuore poi niente c'era molti politici italiani quindi comunque se non altro ti rendevi conto che c'era un interesse per alcune cose alcune cose che sono i libri la letteratura anche da parte di politici e questa è stata una cosa bella e poi niente hanno hanno detto che avevamo vinto e dopo non ci ricordiamo più molto ma io credo che tutti i libri che in qualche modo sono collegati alla malattia però riescono a non parlare sempre di eutanasia di dolce morte di di tutte quelle parole che in qualche modo sembrano una soluzione la soluzione immediata diano un grandissimo messaggio di forza e di speranza a tutti perché sono tantissimi quelli che come dicevamo prima stanno vivendo in questo momento una situazione simile o per un incidente stradale o per una malattia neurovegetativa o per un ictus qualsiasi qualsiasi cosa e lei Cristina lei è un insegnante e ha questo rapporto con i bambini perché è un insegnante della scuola primaria e ha un blog cosa le ha dato questa esperienza sul campo quindi attraverso i più piccoli come è giunta diciamo alla letteratura la narrazione è tutto partito proprio dal mio blog che ho aperto nel 2009 in cui fermavo prima su carta e poi li ho messe online semplicemente se queste mie riflessioni potevano interessare a qualcuno quindi io ho cominciato a scrivere di bambini cioè cose che accadevano per staccarmi anche un po' da quello che vivevo quotidianamente cioè avevo bisogno di fare una riflessione che raffreddasse le forti emozioni che si vivono a scuola positive, negative, di rabbia, di gioia, di dolore, tutto quello che noi viviamo a scuola e questo mi ha servito un po' come terapia di avere questo mio momento ogni giorno per fermarmi e niente da lì il blog ha preso piedi, i lettori hanno cominciato a leggere io mi sono resa conto che a tante persone interessa parlare di bimbi e di cose che non sono sotto gli occhi di tutti, sotto i riflettori ma è la vita intima dei bambini e un editore interessato ha voluto fare il libro quindi dal blog il mio primo libro maestra piccola e da lì si è aperta un po' la mia avventura letteraria con libri per bambini e adesso anche libri per adulti Lei Irene cosa fa nella vita? Io sono impiegata, lavoro in una società editrice E questo rapporto con gli adolescenti? È nato dal servizio con gli scout io sono scout da più di vent'anni e sono capo scout e quindi l'esperienza del volontariato del donare del proprio tempo per qualcun altro è nata ed è cresciuta da lì quindi anche questo progetto come diceva giustamente prima i libri a volte vogliono lasciare proprio dei messaggi quindi il messaggio di spendere un po' del proprio tempo in una società che il tempo ce lo riempie è voluto essere uno dei fondamentali di questo libro e spenderlo per delle cause insomma tipo questa credo che sia per un adolescente un passo molto importante Oltretutto si parla nel libro di liceali che sono prossimi alla maturità quindi anche un momento simbolico per i più giovani Lei ha visto attraverso questa esperienza con gli scout cambiare radicalmente dei giovani che magari erano depressi perché la depressione c'è tra i teenager che hanno trovato davvero un loro mondo attraverso il volontariato Io credo che non mi sento di dire sì o no così secco perché non siamo nella testa di ognuno però io credo che si portino a casa molto quando fanno queste esperienze indipendentemente da questa Al Santa Viola loro hanno nel loro percorso di crescita e di formazione diciamo educativa hanno molte proposte diverse proposte appunto di volontariato di servizio e di incontro con delle realtà locali e non e quindi si mettono molto in gioco si mettono alla prova e credo che per un adolescente sia un bel percorso e una bella sfida e si interrogano conoscono realtà e conoscono persone che appunto in qualche modo gli riempiono dei tasselli della vita per cui secondo me qualcosa di positivo e di buono a casa lo portano se magari non sarà utile nell'immediato ma credo che nella loro vita nel loro percorso da adolescenti ad adulti sarà sicuramente insomma un valore aggiunto Io ho letto da qualche parte che proprio attraverso questa esperienza con suo padre si ha anche già lo sapevo però voglio dire si ha un rapporto nuovo con il termine schifo con quello che può dare fastidio a livello corporeo perché si è obbligati a fare anche delle cose che fanno storgere il naso sono spiacevoli e dopo però tutto acquista una dimensione completamente diversa anche perché poi all'interno degli ospedali il corpo diventa un involucro una cosa un po' strana rispetto a come siamo abituati fuori dall'ospedale qualche riflessione al proposito? Sì c'è scritto nelle pagine del libro è un approccio sia personale ma che hanno sottolineato magari anche alcuni dei ragazzi i pazienti che sono ricoverati in questa struttura sono per la maggior parte con tracheotomia quindi hanno il foro diciamo all'interno della gola e hanno molte secrezioni quindi tossiscono e l'impatto visivo ho usato la parola schifo può essere insomma traumatizzante e quando dicevo si impara una vita nuova perché c'è anche questo lato un po' infermieristico che viene chiesto alle famiglie comunque di aiutare ad acudire i pazienti che comprende anche tutta questa parte insomma e quindi insomma io non ho imparato una vita nuova mi sono avvicinata a mio padre a questa nuova vita di mio padre anche sotto questi punti di vista ma non so se sia l'amore per il familiare o comunque la cura che ti fa stare lì l'amore per la vita che ti fa superare anche la sensazione di insomma di rigetto o comunque di che poi quando sei all'interno dell'ospedale mentre magari stai aiutando il tuo familiare tuo padre e poi vedi quello accanto il paziente al letto aiuti anche quell'altra persona perché proprio si entra in una dimensione diversa e Cristina lei ha fatto diversi viaggi un po' di per piacere un po' umanitari di che tipo? ma allora mi scopro anche io sono scout e per questo che ci conosciamo Irene e quindi il percorso scout ti allena e ti porta a conoscenza di di mondi e uno di questi è proprio il mondo del servizio cioè di aiutare gli altri e quindi è capitato di essere andata proprio grazie a queste esperienze che si fanno tra i 16 e i 21 tra i 17 e i 21 in posti per esempio dopo la guerra in Jugoslavia siamo partiti per il campo profughi sembra che i corsi ricorsi della storia io ero già andata nel 94 dopo la guerra in questi campi profughi che assomigliano tanto a quelli che ci sono adesso e non ci sono andata solo una volta come dire vai guardi e torni a casa ma se ti cresce una sensibilità di un certo tipo torni anche quindi noi torniamo ed è quello che un po' si spera di far lì a Santa Viola che noi te lo proponiamo come capi poi magari sei tu che scegli che questa cosa insomma ti piace farla e ci ritorni o a Santa Viola o da altri tipi di di contesti ecco quindi insomma ho ho avuto la fortuna di fare anch'io esperienze molto forti dalle carceri insomma a tutte cose che lo scautismo ti offre anche perché credo che uno non riesca a scrivere di qualcosa che non conosce sì credo se uno decide di scrivere un libro di questo tipo vuol dire che in qualche modo è rimasto coinvolto in qualche storia quindi questo è il libro Cristina Petti l'autrice salgo a fare due chiacchiere edizioni San Paolo io vi ringrazio per essere stati nostri ospiti e voi che ci seguite da casa ringrazio anche voi spero che vi sia piaciuta questa puntata che abbia dato speranza a tanti e io passo la linea alla regia grazie a tutti grazie a tutti